Il film è composto da due parti. Prima parte, informazioni di base sull'animale. Parte seconda, i suoni dell'animale. Potete utilizzare i rumori in qualsiasi modo, dove volete, come volete. Completamente gratuito. Il leone è uno dei più grandi predatori del regno animale. Noto per la sua maestosa criniera e per essere considerato il re della giungla. Questo felino simboleggia forza, coraggio e nobiltà. Nonostante la sua associazione con la giungla, il leone predilige in realtà le savane e le aree aperte dove può cacciare e vivere in gruppo. I leoni presentano una notevole variazione nelle dimensioni, con una lunghezza che va dai 180 ai 240 cm, escludendo la coda che può aggiungere fino a 90 cm. Il peso varia sostanzialmente, situandosi tra i 180 e i 230 kg. Questi grandi felini possono vivere fino a 30 anni, anche se in natura spesso vivono meno a causa di fattori come la competizione per il cibo o le malattie. La loro imponente criniera, presente solo nei maschi, varia in colore dal biondo chiaro al marrone scuro. Il leone è un carnivoro al vertice della catena alimentare. Preda principalmente grandi erbivori come zebre, gnu e bufali, ma non disdegna cacciare animali più piccoli come lepri e uccelli se l'opportunità si presenta. La sua dieta può variare in base alla disponibilità di prede nel suo habitat. Nonostante la sua posizione dominante, i leoni possono diventare preda di gruppi di iene o di esseri umani, nel contesto della caccia o del conflitto per il territorio. I leoni si trovano principalmente in Africa, ma una piccola popolazione asiatica sopravvive anche in India, nel Parco Nazionale della Foresta di Gir. Prediligono la savana, le regioni semidesertiche e le zone erbose dove possono sfruttare al meglio le loro abilità di caccia. Tuttavia, sono adattabili e possono vivere in una varietà di habitat, inclusi i margini del deserto e le regioni montane, purché vi sia sufficiente cibo e acqua. Grazie a tutti! Grazie a tutti!